mamma mia bella partita però eh bella partita c'è da dirlo ma tanto pure a sto giro stasettimana ogni partita è una polemica mamma mia ne succede sempre una ormai peggio che mai mai così forse innanzitutto c'è starvare ciao ragazzi rubano tutti ormai indistintamente mamma mia manca un minuto esterno forse esterno dalla rete ho detto ecco qua ha segnato ha segnato il 2 a 2 siamo 2 a 1 per il Milan andiamo a chiudere ma sicuramente comunque vincerà il Milan ci manca pochissimo mamma mia è uscita veramente di poco ma questa è stata veramente una bella partita perché comunque il Milan diciamo che ha giocato veramente benissimo io sinceramente non gli avrei dato una lira contro la Lazio in questo periodo esatto in questo periodo così particolare di forma psicologica per la Lazio io pure pensavo sicuramente insomma il Milan potrebbe essere un po' intimorito e invece è uscito fuori ha fatto veramente una grandissima prestazione soprattutto nel primo tempo ma c'è da dire che la Lazio secondo me ha preparato la partita un po' sul contropiede nel senso che gli aspettava un pochino che è sta faccia che stai a fare? no no sto ascoltando pare che sto dinastronzata no no sto ascoltando li aspettava li aspettava li aspettava e poi ricercava di ripartire il contropiede fatto sta fatto sta che il Milan passa in vantaggio e nel secondo io mi ero accorto di un cazzo vi dico la verità nel secondo tempo su Sky fanno vedere una telecamera speciale esclusiva di Sky e si vede che Cudrone quando la va colpita a capoccia nera de capoccia nera de capoccia nera de braccio nera de comido quello che era insomma poracci questi della Lazio che si ritrovano alla fine con qualcosa di cui nessuno si era accorto Lazio che purtroppo non è la prima volta che si ritrova oggetto episodi da var e che comunque gli vanno a sfavore cioè che vengono con varietà o comunque visionati ecco è finita adesso ma quello che voglio Dio no allora e allora ieri sera la Juventus ha rubato perché il Chievo si è fatto espelle due giocatori quello ha fatto le manette si è fatto cacciare quell'altro ha fatto ma uno che fa così ma dai oggi il gol il calcio di rigore di Mertens chi si è lamentato che non c'è stava e il Napoli ruba allora ieri i napoletani dicevano ai Juventini che rubavano oggi i Juventini dicono ai napoletani che rubano e Milan-Lazio rubano poi Crotone e Crotone coso Crotone Cagliari Crotone Cagliari che Zenga si è imbessato chi è che ruba eh chi è che ruba pure Cosa ruba pure Cagliari cioè che cazzo ma vabbè sono polemiche che purtroppo sappiamo che io sto solo a capire una cosa che sto cazzo Devar veramente sta a fare più danni della grande secondo me arriva la guerra un'altra settimana così veramente c'è la rivolta non so quello che potrebbe succedere ma combinò un casino vabbè ma vogliamo parlare della medaglia vogliamo parlare del calcio giocato perché sti cazzi che come dispiace perché è capitato ma pure a noi ci ha toccato l'altro giorno comunque vabbè lasciamo per quindi parliamo del calcio giocato Milan che passa in vantaggio comunque si ha dimostrato sin dall'inizio subito molto volenterosa la Lazio che pareggia immediatamente come dicevamo col Decutrone che inizialmente sembrava regolare ma poi in realtà era Debraccio in realtà ragazzi non si può segnare Debraccio non so se ve ne siete accorti pareggio quasi immediato della Lazio dopo 2-3 minuti con Marusic che pure lui ha fatto una bella azione forse un po' è rientrato forse la Narum si è lasciata sorprende ecco quello si e poi si ha segnato ma come ricordo Marusic ha detto e no poi il Milan buonaventura bellissima l'azione costruita sacco di passaggi una presso all'altro palla in mezzo buonaventura eccolo guarda se non fa Deputrone che dice spalla spalla e in zack incazzato sta lamentando vabbè giusto non era spalla basta riguardarla ragazzi non era spalla ma con questo non vogliamo dire non vogliamo dire che il Milan ha rubato che la Lazio purtroppo tanto ormai la partita è finita 2-1 per il Milan e io che cazzo devo dire che Cudrone ce l'ho contro il fantacalcio per Dio mi ha fatto più tre mi ha fatto per Dio se proprio vogliamo aggiungere e io dico Roma e io dico Roma si hai lasciato Palasio un panchino la cittola non disse quindi quindi niente ho detto buonaventura ha fatto il 2-1 e basta la partita si è chiusa così nonostante comunque la Lazio ci ha un po' provato secondo me era una partita qualche azione pericolosa l'hanno fatta sicuramente il Milan non si è vista la differenza dei punti con la Lazio però c'è da dire che anche la penalizzazione tra virgolette che ha avuto la Lazio potrebbe pesare in non può questo potrebbe essere un risultato avvantaggio tra virgolette di Inter che comunque ha pareggiato con la Spal potrebbe essere una giornata negativa perché se la Lazio avesse vinto se sarebbe avuto a meno 5 perché vincemo no ho detto potrebbe essere una giornata favorevole la Roma deve sfruttare l'occasione ecco quello fammi finire parla quello volevo dire staremo a vedere ma tanto io sono sicuro che vaffanculo mi hai fatto scordare volo di una cosa ormai corsa a 2 corsa a 2 corsa a 2 ragazzi miei c'è stancazzo da fa vaffanculo è andato scudetto per noi è andato scudetto palazzi è andato ormai corsa a 2 Napoli Juventus bocca al lupo e che vinca il migliore chiudiamo qua il video perché tra un po' comincia la Roma me la voglio vedere con calma faremo la live reaction che pubblicheremo domani ma stasera post partita alle ore 10 e 40 all'incera vabbè appena finisce che partita avete che partita avete vista avete visto Lazio-Milan-Lazio avete visto come è andato a finire che cosa ne pensate ma poi a me mi fa incazzare sta cosa che dicono ah se lamentano con noi ai commenti e se stavo al mani e non erano ma che cazzo volete da noi ma che ne faccio io cioè pare che io vi risolvi i problemi e vaffanculo e no va bene se fa per commentare e ieri sera qua io mi hanno fatto due palle così e oggi con Napoli mi hanno fatto due palle così e che cazzo ma che sono psicologo santo Dio eh mi piace commentate condividete che cazzo dobbiamo di noi caro ma che stiamo a fare figure del merda stiamo in anella una stagione di figure del merda ciao basta chiudo così basta ciao